Ma io ho sempre voluto fare qualcosa nella vita. Avevo tanta energia. Non era solo shopping, cene e parrucchiere. Gestivo fondi per la gente povera e raccoglievo soldi per musei e scuole perché la ricchezza comporta responsabilità. Io non ero una vuota consumatrice come le mie cosiddette amiche. Anche se non mi dispiace comprare i bei vestiti. Date mega mance. Mega mance per avere un buon servizio. La gente adora le mance. E un giorno, quando sarete molto ricchi, ricordatevi di essere generosi. Mamma dice che una volta eri ok, ma che ora sei suonata. Sì, e che parli da sola.